Ciao a tutti amici di Music Off e bentornati qui Alberto Recchia dagli studi di Music Off in Roma per la presentazione e approfondimento sulla nuova console della Yamaha, la DM3S versione standard che abbiamo avuto l'opportunità di testare in questi giorni. Siamo al secondo video, nella puntata precedente abbiamo visto le caratteristiche principali estetiche e di software, di possibilità di intervento, di processing della macchina. Adesso ci divertiamo ad entrare in quelle che sono le particolarità un po' più nascoste e poi anche ad abbozzare un mix per vedere quanto facilmente anche chi non ha particolare dimistichezza con le console digitali si riesca a mettere in piedi comunque un risultato accettabile. Entriamo nel dettaglio di quelle che sono al momento le uscite della console, quindi i mix di uscita, abbiamo sviscerato tutti i segreti dei canali nella puntata precedente, adesso andiamo a vedere sulle uscite che possibilità di intervento abbiamo, quindi selezioniamo il layer delle output dove ci vengono visualizzati i sei mix che abbiamo a disposizione, le 6 AUX per esempio e le due matrici. Selezionando il mix che ci interessa notiamo che lo spaccato del bus è molto simile a quello del canale, come potete vedere, ovviamente scompare la parte della selezione e della regolazione del guadagno, ma appare una parte di graphic EQ già abilitato, come potete vedere dalla lucina verde, presente su ogni mix e fino da diciamo dall'1 al 6. Questa possibilità che possiamo avere anche zoomata sotto gli occhi di intervento su 15 bande rispetto alle 32 che sono quelle classiche dell'equalizzatore grafico, ci permette di intervenire eventualmente per ritoccare quello che può essere il nostro sound sul monitor oppure per la classica applicazione di eliminazione o comunque controllo dei feedback. Possiamo avere direttamente sotto mano la possibilità di intervenire tramite i fader, quindi il fader perde la funzione di master, nel caso appunto stiamo lavorando su layer dei master, dei mix e diventa la selezione dell'ampiezza della banda che abbiamo sotto mano su cui vogliamo eventualmente intervenire, altrimenti possiamo tornare nella modalità diciamo di visualizzazione dei fader come master del mix e lavorare semplicemente con il touchscreen per effettuare l'intervento che ci interessa. Abbiamo a disposizione come sui canali sempre e comunque un real time analyzer, quindi un analizzatore di spettro che lavora in background, nel caso del mix adesso in particolare non avevamo niente da vedere perché non c'è nulla su questa mandata, diciamo che ci possiamo andare ad assegnare una serie di canali, eccolo qui, adesso possiamo vedere l'analizzatore che sta lavorando. Abbiamo anche un offset che possiamo regolare qualora il livello delle bande visualizzate sia troppo basso, per cui diciamo poco leggibile, possiamo aumentare il valore di offset oppure lasciarlo a livello standard. Dopodiché abbiamo la possibilità di inserire una dinamica, quindi se vogliamo comprimere la mandata, per esempio se stiamo lavorando con un in-ear o un monitor ci abbiamo necessità di controllare un pochino la dinamica. Funzione particolarmente utile è quella del delay, sicuramente molto più sui mix che sugli ingressi, ma in ogni caso per ogni mix che andiamo a selezionare abbiamo la possibilità di inserire un'unità di ritardo, quindi eventualmente utilizzabile per allineamento di vario tipo, se lavoriamo con le matrici, quindi stiamo gestendo magari un PA o una componente del PA per l'allineamento temporale dell'intero sistema, oppure possiamo lavorare con il delay sulla mandata per allineare per esempio un in-ear o un monitor, oppure fare particolari giochini, trucchetti, tricks per controllare i feedback. Andiamo a vedere adesso cosa abbiamo nei menu, quelli un po' più nascosti, quelli se vogliamo di impostazione delle preferenze, perché ci sono tutta una serie di interessanti curiosità. Nella puntata precedente avevamo visto, intravisto velocemente, avevo selezionato la parte superiore dello schermo, dove abbiamo un insieme, uno sguardo di insieme su quelli che sono i livelli di tutti gli ingressi, di tutte le uscite, se la selezioniamo ci si apre in maniera molto più evidente, molto più comprensibile e possiamo andare a intervenire su una serie di settaggi per stabilire la lettura di questi meter, in che modo agisce, cioè da quale punto del percorso del segnale va a pescare per indicarci appunto il suddetto livello. Possiamo avere un picco hold, quindi la memorizzazione del picco e quant'altro, piuttosto che una visualizzazione ancora più dettagliata dove appunto però chiaramente non abbiamo tutti insieme le risorse a vista. Il recorder, quindi la possibilità di registrare su pennetta lo stereo, per cui lo stereo inteso come una sorgente stereofonica, non necessariamente il master, possiamo stabilire quale sorgente mandare al registratore, ovviamente di default è impostato il master perché nella maggior parte dei casi ci interessa diciamo registrare la performance, quello che esce dal PA, qualora ci trovassimo in un contesto live e allo stesso modo utilizzare anche i file su pennetta come file da riprodurre, qualora volessimo per esempio una musica di walk-in o qualcosa di simile. Ricordiamoci che andiamo riproduzione su vari tipi di formato come anche allo stesso modo possiamo scegliere vari tipi di formato di registrazione, una novità è quella di poter registrare addirittura in wave a 96 kHz, quindi non compresso, per cui un'ottima risorsa qualora volessimo avere una registrazione di alta qualità. Se clicchiamo poi sull'icona della cuffietta entriamo nella pagina di impostazione di quelle che sono le preferenze per l'ascolto del fonico ed eventualmente la gestione dell'oscillatore. Sull'oscillatore andiamo veloci, possiamo scegliere il tipo di sorgente, pink noise una sorgente sinusoidale e così via, un burst quindi una sorgente impulsiva e poi la destinazione di questa sorgente quindi qualora volessimo fare il test del nostro PA o il test dei monitor quindi del corretto cablaggio oppure appunto per il verificare il sound del PA chiaramente poi con adeguati strumenti di misura possiamo utilizzare questa funzione. Mentre nella pagina Q-Monitor andiamo a scegliere in che modo vogliamo lavorare e interagire con le risorse di PFL, FL solo e quant'altro quindi modalità Mixed Q sicuramente avremo una somma dei PFL, dei Q in questo caso, Last Q invece l'autocancellazione dei precedenti Q. Dopodiché possiamo scegliere appunto se lavorare in modalità PFL piuttosto che AFL o meglio solo in questo caso specifico. Possiamo decidere di monofonizzare il nostro ascolto, di inserire un delay e poi stabilire l'ascolto di default dei nostri monitor. Questo che significa che la console ci permette di collegare a un'uscita che poi andiamo a definire noi, adesso lo vediamo tra poco, una coppia di casse che utilizziamo come studio fondamentalmente, quindi una coppia di monitor di riferimento che non sempre troviamo nel live perché nel live di solito il fonico ascolta il PA, a meno che non stiamo in condizioni particolarmente complesse, come può essere in teatro o magari in un angolino dove ci hanno relegato a fondo sala, dove è difficile avere un ascolto accettabile del PA, allora lì andiamo a mettere un paio di casse. Oppure nel nostro project studio, nel nostro studio di produzione video, nel nostro home recording sicuramente avremo un paio di casse. Quella che normalmente nei mixer da studio è chiamata uscita control room alla quale noi andremo a collegare appunto i nostri monitor, in questo caso si chiama appunto uscita monitor, quindi insomma abbastanza semplice da individuare. La cosa interessante è che il livello del monitor, quindi il volume d'ascolto, che ovviamente non ha niente a che vedere con il master, perché il master è l'uscita e noi portiamo il PA, come sappiamo, il livello d'ascolto lo possiamo gestire o con il nostro touch and turn, chiaramente selezionando in questa pagina appunto il fader, se così vogliamo dire, oppure semplicemente anche se stiamo in una condizione standard di lavoro, selezionandola qui dal mini fader che abbiamo sopra il meter del master e quindi anche qui possiamo decidere il nostro livello d'ascolto. Ma se il nostro ambito di applicazione del DM3S è quello di uno studio, di un project studio, di un video studio, probabilmente saremo molto più attenti all'utilizzo del volume d'ascolto piuttosto che all'utilizzo del master. Il master sarà la nostra uscita per la registrazione, ma non è un fader che vale la pena avere sempre sotto controllo, quindi molto spesso noi il master lo teniamo a zero e rimane fermo lì, per cui ci è più comodo avere sotto controllo il volume di ascolto, ovvero il volume del monitor, quello che appunto in studio chiamiamo control room. Possiamo andare a definire il ruolo di questo fader e quindi mettercelo comodo per quella che è il nostro utilizzo. Quindi andiamo nell'icona setup che cominceremo a vedere, la lotellina è il classico ingranaggio che ormai siamo tutti abituati a conoscere già dagli smartphone. Selezioniamo mixer main, ovvero questo fader e gli andiamo a dire che ruolo svolge. Ovviamente lui di standard parte che è il fader del master, ma noi possiamo dirgli tranquillamente che è il nostro monitor. Quindi ci ritroviamo qui il livello di ascolto del nostro sistema di monitoraggio in studio, per cui abbiamo la possibilità di avere veramente un sistema di controllo, di control room agevole, come è fondamentale avere in studio. Questo non significa che il master è sparito, il master esiste, è una risorsa del mixer, quindi ce l'abbiamo sempre a disposizione e non ce l'abbiamo sott'occhio. Semplicemente se la vogliamo cercare, la andiamo a trovare nella pagina del FX MON, quindi nel layer dei fader che in parte accolgono i master degli effetti, ma contengono anche il master del master. Quindi non l'abbiamo perso, il nostro master sarà sempre qui, che ci aspetta ed essendo una risorsa che controlliamo poco, comunque di lato, ci conviene avere sotto controllo sempre il monitor. Dopodiché cosa troviamo in questa pagina? Velocemente, il bus setup l'abbiamo già visto, il worklock l'abbiamo visto, il patch ci permette di stabilire quali sono le risorse di ingresso e quali sono soprattutto le risorse di uscita, cioè che cosa portiamo noi sui nostri 8 cannon di uscita che abbiamo a bordo della superficie. Di default, come vediamo, abbiamo i 6 mix e il master. Questo è, come dire, una configurazione standard da live, quindi 6 monitor e un PA, ma volendo possiamo chiaramente andare a decidere di inserire qualsiasi altro tipo di risolta, 4 mix e 2 matrici, per esempio. Dopodiché stessa cosa possiamo fare con il discorso delle risorse che abbiamo in USB, quindi decidere cosa proiettare verso la nostra interfaccia multicanale, che sarà collegata, come dicevamo in precedenza, a un computer, quindi utilizzare la console come scheda audio e decidere cosa transiterà per quei flussi USB, quali risorse del nostro mixer andremo a inviare verso quelle uscite. Altra cosa importante che abbiamo su questa console, proprio a significare la vocazione comunque di questo mixer per i project studio, è la possibilità di stabilire tutti quelli che sono i program change, control change, via MIDI, che ovviamente verranno trasferiti tramite l'interfaccia USB, quindi una approfondita selezione di funzioni che ci permettono di rendere questa superficie comunque utilizzabile anche come controllo remoto, quindi come superficie di controllo appunto di una DO o di quello che ci interessa controllare via MIDI, non necessariamente una DO. RECALL SAFE, sono funzioni avanzate che riguardano la possibilità di evitare il RECALL dalle scene, MUTE GROUP, la possibilità quindi di stabilire nei sei gruppi di MUTE possibili su questa console, stabilire quali canali sono assegnati a questa sezione. L'assegnazione dei canali ai gruppi di MUTE la possiamo fare anche tramite la pagina del canale, selezionando il canale e quindi possiamo stabilire dove quel canale potrà essere memorizzato sul gruppo di MUTE. Custom Fader Bank, quindi la possibilità di decidere cosa avremo su questi due layer, quindi personalizzarli, e User Defined Keys, quindi che funzione hanno questi pulsanti, come vedete il tap tempo non manca mai perché è una funzione, nel momento in cui si lavora comunque con una band, con qualcosa a che vedere con la musica, un delay può sempre far comodo ed è indispensabile utilizzare un pulsante per battere il tempo, che ovviamente poi troveremo visualizzato nel plugin del delay e interessante è avere come funzione di questi tasti la bookmark page, quindi la possibilità di sostanzialmente fare un vero e proprio bookmark, torniamo a casa, di uno specifico, una specifica pagina, per esempio mi interessa la dinamica 2 del canale appunto 5, quindi mi interessa questa pagina qua, io la vado a memorizzare su questo pulsante, per cui in qualsiasi situazione io mi trovi e abbia necessità di intervenire su questa dinamica, io vado direttamente qua, magari è il compressore della voce del cantante, per esempio, quindi devo averlo sempre sotto controllo. Infine, tutta una serie di preferenze, ad esempio il network che noi stiamo utilizzando, come vedete qui tramite l'iPad e l'applicazione di Yamaha Stage Mix di M3, che ci permette di svolgere tutte le funzioni che abbiamo sulla console anche sull'iPad, è chiaro che questo tipo di soluzione è indispensabile nel momento in cui ci ritroviamo a lavorare in condizioni non particolarmente comode, facciamo prima l'esempio, magari ci sbattono in piccionaglia, come si dice in gergo, in teatro, oppure ci mettono in una regia chiusa, per cui dobbiamo avere comunque la possibilità di ascoltare il PA, usciamo in sala con l'iPad, ci mettiamo seduti e abbiamo in tutta comodità tutta la console a vista, con, nel caso di questo bel iPad sostanzioso, la possibilità di agire in maniera, se vogliamo, anche più comoda rispetto a quello che può essere il mixer. In questo caso vediamo un analizzatore rispetto, questa è una piccola chicca, che l'applicazione mette in funzione utilizzando il microfono dell'iPad, cosa molto utile quando andiamo sul palco a fare, diciamo, a gestire l'ascolto dei musicisti, e quindi ci mettiamo in send-on fader, facciamo un po' come il cameriere al ristorante, prendiamo le ordinazioni vicino al musicista e soprattutto ci interessa poi eventualmente analizzare e verificare il sound sul monitor, in particolare evitare i feedback, questo ci aiuta molto in quella fase lì. Per quello che riguarda le funzioni della console ci possiamo fermare qui. Adesso andiamo a vedere velocemente come possiamo immaginare un setup per quanto riguarda, per esempio, un piccolo evento live, ma non solo. Prendiamo come scusa, come pretesto, quello di andare a visualizzare le possibili scene che abbiamo a disposizione e vediamo che ci sono una serie di preset, quindi preset non solo per quanto riguarda le qualizzazioni, i canali, i nomi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda il setup di partenza. Questo ci dà anche idea di quali sono le vocazioni di questa macchina. La prima che troviamo è podcasting. Quindi qui la questione è molto semplice. Per quale motivo ci ritroviamo spesso e volentieri a spendere fior di quattrini per telecamere 4K, 8K, sistemi di switching, splitter video e quant'altro allo stato dell'arte, ma poi ci accontentiamo del mixerino analogico molto rumoroso da 4 soldi. L'audio è comunque un ambito che merita altissima qualità per quanto riguarda dinamica, risposta in frequenza, silenziosità e questo mixer è il giusto compromesso, il giusto investimento per essere messo al fianco di apparecchiature video di prima qualità. Quindi podcasting, recording, registrazione, ovvero perché mettersi a combattere con dei recording studio, dei project studio che prevedono il computer, la scheda audio, il modulo control room e accessori di vario tipo, quando in realtà qui abbiamo tutto, qui abbiamo una control room molto dettagliata, abbiamo una scheda audio 18 in su 18 out, USB, plug and play fondamentalmente, con tutta una serie di possibilità di gestione del monitoraggio che normalmente non abbiamo con i sistemi DO, con il mouse. Rock band, jazz combo, quindi tutto ciò che riguarda il mondo live, house of worship, ovvero tutti quegli eventi che sono abituati e che frequentano quel tipo di chiese a fare, quindi con le band, andiamo a richiamare per esempio house of worship, service one, qui troviamo tutta una serie di nomi, pulpito e quant'altro, lavalier, headset, quindi si prevede comunque di avere tutta la parte della cerimonia e la parte della band, come è normale in quel tipo di funzioni, corporate, video meeting, karaoke, theater, talk show e quant'altro. Quindi come vedete una console che si presta a tutta una serie di attività, in primis quelle che normalmente sono relegate a tutto un sistema che è farraginoso e poco pratico, qui abbiamo tutto quello che ci serve per mettere in piedi un broadcast studio, un podcast studio, video making, recording studio e poi perché no jazz club, live music e quant'altro, ovviamente tutto quello che può essere compreso in un insieme di sorgenti limitate a 16, massimo 18. Vediamo cosa succede in questo caso, in cui abbiamo collegato tramite le connessioni che abbiamo a bordo analogiche, sette tracce che stanno girando, una rock band, vediamo cosa ci possiamo inventare, adesso non partiamo da un preset perché non ci troviamo poi con i nomi, ma è interessante vedere proprio come possiamo costruire da zero pur non partendo da un preset, utilizzando appunto tutta una serie di shortcut se vogliamo che ci facilitano la vita, ovviamente queste sono funzioni che come dicevamo nella puntata precedente ciascuno è libero di utilizzare o meno, i fonici più esperti sanno già quello che devono fare e quindi partiranno con le loro idee, con il loro standard di lavoro, magari altri invece preferiscono affidarsi ai preset che Yamaha mette a disposizione. Quindi selezioniamo il canale, andiamo ad aprire la finestrella delle opzioni, selezioniamo la libreria e andiamo a scegliere per esempio per tipologia, in questo caso noi qui abbiamo una cassa, andiamo a scegliere il preset che ci interessa eccola qui, tra tutti quelli a disposizione, diciamo che non sappiamo che il microfono è stato utilizzato quindi rimaniamo sul generico, quindi generic, legacy bass drum, andiamo a richiamare l'intero canale quindi tutta una serie di scelte a partire dal gain che viene impostato su un livello standard un'equalizzazione che può essere più o meno condivisa con la funzione one knob già attivata, quindi significa sostanzialmente che io seleziono il preset se non mi piace riduco l'intervento, l'intensità dell'equalizzazione oppure lo vado a incrementare se voglio un suono un po' più marcato, chiaramente questo dopo aver verificato che il livello di guadagno sia corretto, quindi il nostro bel leddone che abbiamo visto in precedenza diciamo che ci possiamo anche stare, ci prendiamo un po' di headroom che su questa console è abbondante e quindi come vedete sul canale noi abbiamo selezionato un nome che è stato già assegnato un'equalizzazione, dopodiché se ci interessa possiamo andare a decidere di attivare un gate se vogliamo un suono un po' più pulito diciamo oppure lasciare libera diciamola il nostro il nostro sound andiamo a vedere che succede sul sul canale 2 canale 2 abbiamo il classico rullante quindi di nuovo preset, libreria, generic vediamo un po', lo avevamo prima ecco qua, snare drum, recall channel quindi come vedete partendo da un gain prestabilito ce lo andiamo a ritoccare una particolare nota è doveroso farla quando ci muoviamo all'interno di preset che hanno a che vedere con dei microfoni specifici quindi marche e modelli specifici ricordate che quando fate il recall della libreria del preset ovviamente se il microfono necessita di 48 vi trovate la 48 volt attivata quindi attenzione se il canale è aperto siamo a rischio bump ok quindi mi raccomando canale chiuso nel recall del preset qui di nuovo abbiamo un'equalizzazione di partenza che è quella che i tecnici Yamaha ritengono sia come dire significativa per questo tipo di sorgente se non ci interessa la possiamo enfatizzare oppure anche un pochino controllare è un punto di partenza oppure poi semplicemente andiamo a intervenire come più ci piace allarghiamo stringiamo l'intervento quindi display multitouch questo ormai diciamo che è imprescindibile andiamo a seguire e abbiamo su questa traccia dei panoramici quindi ci andiamo a cercare un generi una un preset generico relativo a symbols eccolo qua andiamo a lavorare sul gain in questo caso spingere un pochino di più eccolo qui e così via adesso non ci soffermiamo troppo sul tutto il resto del mix diciamo che alla fine quello che ci interessa è tirare su un mix che come vedete in pochi minuti viene viene portato a termine semplicemente facendo affidamento a quello che sono gli standard che ci propone Yamaha torno a dire possiamo decidere di sceglierlo come di non sceglierlo sicuramente se ho poca dimistichezza questo è un buon punto di partenza in definitiva per concludere questo nostro appuntamento possiamo dire che questo è un prodotto che Yamaha finalmente ha messo in commercio venendo in conto a tante esigenze dei nuovi mercati mercati di produzione produzione video produzione di contenuti mettendo in un'unica macchina di livello professionale preamplificatori che Yamaha ormai ci ha fatto apprezzare ormai in tanti anni natural sound quindi cristallini livello elevatissimo di conversione 24 bit 96 kHz quindi uno standard molto elevato tutta una serie di possibilità di applicazioni noi qui ne vediamo una di cinque quindi abbiamo il controllo remoto in tempo reale su su computer portatile l'applicazione per il musicista per la gestione del personal mixing o addirittura applicazioni che possono essere del tutto customizzate qualora si volessero realizzare dei sistemi di diffusione personalizzati per esempio per quanto riguarda tutto ciò che è sonorizzazione diffusione in ambienti complessi per esempio quindi una macchina che offre da molta soddisfazione al piccolo producer fino alla compagnia di service di rental che deve occuparsi di eventi corporate piuttosto che al piccolo locale dove non si vuole rinunciare alla qualità del suono in uno spazio tutto sommato molto 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 compatto detto questo vi saluto grazie per avermi seguito fino qui e alla prossima ciao a tutti